Musica Dai a Mosco Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Go Gosco Nacca Tiro è un bel Accuazione Sembrato quello del Cagli Cosa è il bel Hai 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 Quattai E Che fu il nome O Ti vorrei dai aguscu faccia un'altra doppietta non c'è arrivato non c'è arrivato non c'è arrivato non c'è arrivato però lei non c'è di dire che è passata non c'è vergogna non c'è il tizio non c'è il tizio non c'è il tizio dai un'altra non c'è un'altra ma dico a cattismo diciamo una piccola d'uman non c'è un tizio c'è un tizio piccola piuma tipo l'alzamentario il giudere lo conosce nooo e c'è la capa come d'anno oh orta ragazzi non c'è più 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 buon perché c'è più che ha capito questa cosa non c'è più chi ha capito questa cosa capito ci sono le piotte prima per io sia pure un postaggio quindi c'è così c'è così poi c'è così poi c'è un amico no ma c'è così che avevo rinviato e di cosa a quel posto fanno un diagonale e fai l'uomo che l'appoggia da questa parte vai bella una patata ooooh ooooh hai stato caraglia e marina mi piace ho messo le palle da patina e ci ha messo le palle di da patina e ci ha messo le palle da patina quindi io ci stavo e mi piace ho messo le palle da solita per perposta Non è vero! Dai ragazzi! Vai vai vai! Non è vero! Non! 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 Non. Non! come faccio? si può pagare il video? buono, basta! è vero, è vero! spento uomo! vai! oh! ora! si! 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 Sì, sì, sì. Sì, sì.